Oggi ti faccio vedere come regolo i contorni della mia barba. Utilizzo questo rasoio di sicurezza che è molto 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 comodo, veloce, pratico e affidabile. Come prima cosa vado a montare subito la lametta ovviamente. Utilizzo una giusta quantità di gel da barba proprio per lasciare i contorni ben visibili durante la rasatura. Per definire al meglio la zona basetta guance mi aiuto con questo regolatore. Passo la zona del collo stando attento a mantenere un profilo lineare nel sottogola. Olio, balsamo, modello piacimento ed il gioco è fatto.